Io lavoro con il cinema saltuariamente da 23 anni, ho fatto prima il generico, poi ogni tanto capita qualche piccolo ruolo, piccolazioni speciali, però lo faccio per hobby. 8 anni fa decisi di iniziare questo gioco, lo chiamo gioco io, che però mano a mano che andava avanti nei giorni è diventato sempre più serio, fino ad oggi. Allora il primo film che durava 45 minuti l'ho girato esclusivamente con una macchina fotografica digitale, compatta, con bassa risoluzione. Poi c'è stato un evento a Belletri che ha avuto il suo successo e i concittadini e le altre persone che hanno visto il primo film di 45 minuti mi hanno chiesto perché non continuavo quel discorso di quel film e ho fatto un altro film che ho realizzato in un anno e durava un'ora e mezza. Dopo questi due film, durante questi due film ho fatto anche un cortometraggio che potrete vedere su Youtube oppure sui miei siti www.fernandomariani.com o www.fernandomariani.it Si chiama Dentro le mura e con questi lavori ho partecipato a tante manifestazioni, tanti programmi televisivi, radiofonici per parlare in generale contro la violenza e prettamente quello sulle donne, bambini ed anziani. Ho raccolto dei fondi con i primi due DVD di questi due film e il cortometraggio che ho donato a due case di accoglienza una è la casa del povero di Roma e poi casa Nazareth della diocesi delle disegni. E' mia intenzione continuare con questo ultimo lavoro, questo discorso di beneficenza anche. Io tutto quello che ho fatto, ho fatto le mie spese, non ho guadagnato nulla, ho rimesso tanti soldi e tanto tempo. Io ho lavorato giorno e notte, vedrete questo lavoro che è uno dei tre e ci è stato molto impegno. Ho avuto l'aiuto di tanti amici e colleghi, specialmente della mia piccola truppa che qualcuno è qui in zona. c'è Antonio Censi che oltre ad essere un ex collega perché è entrato con me 35 anni fa a fare il vigile facevamo la battuglia assieme, poi lui ha preso un altro percorso. Però è un grande musicista e mi ha fatto tutta la colonna sonora. Antonio puoi venire qui, per favore? Poi ci sono altre persone, diciamo, adesso mi sfuggono, chiedo a tutti quelli che hanno partecipato al film in qualche modo di venire qui sopra con noi, vicino a noi, grazie. Allora, della truppa e chi altro c'è, Pino? Vabbè, d'altro. Mica se non ha parlato dei cosi, vedete. Sì, vabbè. La truppa, Luca, Gianluca, tu stai? Cioè, no, faccia che ci chiama lui. Prima, tutto il casto devono chiamare. Tutti quelli che hanno partecipato, Niki, 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 Giusino lo conoscete perché lo vedete tutti i giorni in televisione, Niki e Mauro Cortini, lo vedete tutti i giorni.